Come pulire al meglio una scatola In questo caso io ho questa Prima fase è togliere l'adesivo intorno Poi togliete questa cosa bianca Adesso tolgo la colla La sciacquata all'interno, io l'ho già fatto Poi prendete un pezzo di scottex Con il pezzo di scottex che avete strappato in mezzo scottex Per dentro lo mettete dentro e poi lo mettete fuori Dobbiamo levare questa colla Prendete lo sgrassatore e toglietelo Dopo aver sgrassato la colla rimanente Sciacquatelo Una volta fatto questo La vostra staccatola sarà a posto Se vi è piaciuto questo tutorial Iscrivetevi al canale e mettete like Ciao Grazie a tutti